Nonostante le rassicurazioni dell'amministrazione comunale di Nuoro sul collaudo e la conseguente apertura al pubblico del belvedere di Viale Ciusa, la struttura rimane ancora transennata e interdetta in Uresi. E questa è la denuncia del capogruppo del PDL in Consiglio Comunale Pierluigi Saiu, che da un paio d'anni sta conducendo una battaglia per la conclusione dell'opera e la sua fruizione da parte dei cittadini. Il consigliere comunale di opposizione ha presentato un'interrogazione al sindaco Alessandro Bianchi. In una nota Saiu ricorda che in occasione della seduta del Consiglio Comunale dell'8 ottobre il primo cittadino aveva assicurato che la struttura sarebbe stata collaudata entro il 31 dicembre del 2013. A sei mesi da quella dichiarazione, sottolinea il capogruppo del PDL, il belvedere è ancora chiuso. Saiu fa anche la cronistoria recente dell'assessorato ai lavori pubblici che dovrebbe occuparsi del caso. L'incarico di assessore è stato ricoperto prima da Angelo Serusi, poi, dopo la sua uscita dalla giunta, assunto dal sindaco come interim e ora è stato attribuito a Roberto Cadedu. In un primo tempo, scrive Saiu nella nota, il mancato collaudo del belvedere nei termini fissati dal sindaco è stato imputato all'alluvione. I danni causati dalla calamità del novembre scorso, continua la nota, avrebbero impedito all'impresa di eseguire i lavori. A diversi mesi di distanza la situazione però non è mutata e vogliamo cercare di capire il perché. Da qui la decisione di Saiu di presentare un'interrogazione. A tre anni dalla sua conclusione, quell'opera, continua Saiu, costata 780.000 euro, non è ancora fruibile alla comunità nuorese. I lavori sono stati ultimati nel marzo 2011 e le operazioni di collaudo sono iniziate nel luglio dello stesso anno. Nell'interrogazione Saiu intende chiedere all'assessore ai lavori pubblici in che cosa consiste l'intervento che sarà interamente a carico dell'impresa. Vogliamo avere la certezza che si tratti di un intervento adeguato, capace di garantire tutte le condizioni di sicurezza richieste. Vogliamo sapere quando quell'opera sarà aperta e non ci accontenteremo di un altro annuncio, di un'altra promessa mancata.